Eccoci, oggi finalmente andiamo a prendere Mareiche all'aeroporto. Speriamo che non si sia perso da qualche parte. Grazie a tutti. Sì, no, una macchina così e va a 105 km orari. Passa un cazzo! Ho mangiato un sacco di riso, poi ho mangiato i fagioli neri, poi ho mangiato una specie di carne macidata che credo si sia anche per farlo. Speriamo che non si sia perso da qualche parte. Speriamo che non si sia perso da qualche parte. Speriamo che non si sia perso da qualche parte. Grazie a tutti.